Musica Ben ritrovati all'appuntamento con Negozi in TV, un saluto da Trisha Maniles, dove mi trovo? In quelli di Arara Viaggi, in Viale Regina Margherita al 9 barra B, dove c'è ovviamente tante cose da poter scoprire in questi primi freddi dove poter andare al caldo, delle anticipazioni su quelli che sono gli appuntamenti con i viaggi più esileranti, quelli più accattivanti, e tante tante buone notizie insieme al nostro amico Matteo. Per cui non perdeteci di vista, accomodatevi, viaggiate con noi grazie alle immagini di Elisa Paderni. A dopo! Musica Ed insieme con Matteo Calcopietro, titolare di Arara Viaggi, ancora una volta per scoprire dove ci porta questo freddo nei posti caldi. Buongiorno a tutti quanti voi che mi state seguendo in questo momento. Vi intanto vi ringrazio il tempo che mi state dedicando e ascoltandomi. Vi ringrazio oltretutto per la preferenza che mi avete dato durante tutto quest'anno, scegliendomi come agenzia per le vostre vacanze più o meno lunghe ed emozionanti, ma l'ho sempre cercato di fare con massimo impegno e regalandovi tutto il mio amore per il mio lavoro e dedizione. Ora vi vorrei proporre di passare a trovarmi per farvi vedere già i tanti vantaggi che i maggiori operatori del mercato nazionale non vi propongono se sceglierete di acquistare e prenotare le vostre vacanze in largo anticipo per la vostra prossima estate. Anche senza però dimenticare che ha ancora tante belle proposte, eventualmente anche da mettere sotto l'albero se quest'anno decidessi di fare un regalo un po' alternativo e un po' differente rispetto ai soliti. Quindi vi aspetterò con veramente piacere di trovare una soluzione dandovi il meglio a livello qualitativo, al miglior prezzo di mercato, senza aver paura di quello che potrebbe essere la concorrenza dell'internet, in quanto l'agenzia Rara Viaggi è affiliata a un grande network nazionale che è Geo Travel Network e grazie a questo riesco ad avere le migliori tariffe e tariffe anche a volte dedicate, quindi che si trovano solo presso l'agenzia di questo network da poter proporre alla mia clientela, oltre che a sconti che è sempre riservo ai miei clienti che sono fidelizzati. Devo dire che in realtà quando io dicevo dove andiamo con questo freddo, andiamo al caldo, è proprio una buona ipotesi quella di venire qui senza impegno, con un buon preventivo, con qualche viaggio così itinerante attraverso quelle che sono le tappe che vi considera il nostro amico Matteo, ma non dimentichiamo che ci sono anche delle altre situazioni da dire, ovvero delle anticipazioni importanti, una su tutte il grandissimo Carnevale di Venezia, che bisogna ora prenotare per avere il costo migliore ed assicurarsi la possibilità di fare un buon viaggio. Certamente questa è una delle tante iniziative che proponiamo, che sono agite di un aggiornato o un paio di giorni, quali il trenino di Bernina, oppure l'Epifania a Budapest o altre situazioni di questo tipo, in cui ci sarà sempre un accompagnatore dell'agenzia che vi si starà durante il vostro viaggio e sarà sempre con il pullman in partenza da Reggio Emilia. Poi abbiamo altre possibilità, quali i biglietti adesso anche per concerti o grandi eventi, tra cui anche i Gran Premi di Formula 1 del prossimo anno, vi sarà la possibilità di acquistare biglietti se uno avrà il piacere di assistere a questo tipo di eventi sportivi. Quindi siamo un'agenzia, crediamo, piuttosto completa, in quanto offriamo da servizi di biglietteria aerea, alle vacanze con possibilità di pagamenti rateizzati, o la possibilità di avere anche viaggi di nozze, quindi con la possibilità di creare una lista di nozze e soprattutto vantaggio che se vi fosse per i sposi futuri più fortunati un esubero sulla montare il versato qui in agenzia non viene nessun obbligo di spesa, ma verrà restituito immediatamente tramite bonifico tutto quello che la parte in eccedenza rispetto al prezzo patuito del viaggio. E poi tanti altri servizi, quali la possibilità di avere assicurazioni turistiche, visti per potersi ricare negli Stati Uniti o altri paesi fuori dalla comunità europea, biglietteria navale e poi anche il servizio di biglietteria ferroviaria. Quindi vi aspetterò anche per mostrarvi quella che è la nostra iniziativa del Carnevale di Venezia e così poter prontare e riservarvi i migliori posti per questo grande evento famoso in tutto il mondo quale appunto il Carnevale. Vi aspetto qui in agenzia, se doveste avere esigenze di orari particolari non esitate a contattarmi che siamo molto disponibili e delassi sui nostri orari e quindi vi attenderemo e accoglieremo all'orario che vi verrà più consono. Devo dire che in realtà ci sono anche tante altre possibilità di essere all'interno di Arara Viaggi, magari le piattaforme social, per cui dove possiamo trovarti all'interno delle piattaforme social? Abbiamo Instagram, Arara Viaggi, Facebook Arara Viaggi oppure il sito dell'agenzia che è www.araraviaggi.com O se no chiamatemi e venitemi a trovare che così con piacere vi offrirò anche un caffè e faremo un primo viaggio mentale insieme per trovare la soluzione giusta ai vostri desideri. Grazie ancora dell'attenzione e buona festa a tutti quanti voi. E adesso sai cosa facciamo Matteo? Ci mettiamo qui tranquilli tranquilli e lanciamo un messaggio a coloro che ci seguono da casa. Mettetevi comodi perché insieme alle immagini di Elisa Paderni si viaggia ancora una volta all'interno dell'agenzia Arara Viaggi. Ok Matteo? Perfetto, vi aspetto e viaggeremo insieme sperando di regalare sempre le stesse emozioni che voglio vivere io quando faccio i miei viaggi personali. Intanto incominciamo con le immagini di Elisa e poi andiamo avanti. Perfetto, vi aspetto e viaggeremo insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui finisce il nostro appuntamento con Negozi in TV e vi rimandiamo al prossimo, mentre gli appuntamenti con il viaggi, insomma, quelli li gestisce Matteo. Arrivederci a tutti. Grazie ancora all'aspetto numerosi e appunto per ricollegarmi al discorso di Trisha, a coloro che posteranno foto o eventuali feedback, voglio riconoscere un particolare omaggio a tutti coloro che dedicheranno questo tempo verso di noi come agenzia. Grazie. Grazie a te Matteo.